Sicuramente sarà una bellissima partita, due squadre in difficoltà che però sicuramente entrambi vorranno vincere. Noi veniamo da una partita, da una sconfitta, ma da una partita dove ci ha dato anche delle certezze perché comunque creare tanto in un campo difficile come Napoli non è mai facile e nessuno ci era riuscito. Quindi ci aspetta una partita complicata però dove vogliamo portare a casa sicuramente i tre punti. Credo che anche loro attraversano un momento abbastanza delicato dove sicuramente hanno delle pressioni importanti addosso sia l'allenatore che la squadra perché comunque hanno speso tanto, hanno una rosa che può ambire a traguardi importanti e per ora non sta rispecchiando il valore della rosa. Quindi sicuramente verrà Sassuolo a cercare di fare punti, dovremmo essere bravi noi a non fargli prendere fiducia e cercare di aggredirli subito. Sicuramente ci ha fatto ritrovare un po' non i punti ma un po' di entusiasmo perché comunque come ho detto prima abbiamo colpito due pali, abbiamo messo in difficoltà comunque soprattutto nel secondo tempo una squadra importante, una squadra secondo me la migliore del campionato. Quindi in questo momento secondo me ci troviamo un po' meglio contro le squadre che fanno la partita in casa, soprattutto con le squadre che si chiudono abbiamo fatto un po' di difficoltà, però sono convinto che nasceremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto. Le occasioni quando ho giocato le ho sempre avute, ci sono momenti della stagione in cui magari tocchi una palla e la butti dentro, altre che ci provi e la palla non entra, quindi sono sempre stato tranquillo e ho sempre pensato positivo. Cerco sempre di dare il massimo, di dare tutto, però aver fatto gol sicuramente mi ha dato una bella inizione di fiducia. Io sono convinto che le vittorie riporteranno sicuramente entusiasmo e faremo un grande campionato. Siamo partiti un po' a rilento, un po' tutti abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto pochi gol, abbiamo perso qualche volta di troppo, però sono convinto che con il lavoro quotidiano, con la voglia che ci mettiamo ogni giorno in campo ne usciremo, perché i valori della squadra sono importanti, ci sono uomini di valore anche nello spogliatoio, quindi sono convinto che usciremo da questo momento, è ancora presto, sono passate dieci giornate e il cammino è ancora lungo.